È Lara Bertoncello, la nuova presidente dell'FC Bassano, mentre in panchina arriva mister Gianluca Zattarin, già difensore con la maglia giallorossa ai tempi della Serie C. Nuovo direttore generale Luca Bertapelle, ex calciatore per una stagione team manager della prima squadra, e torna come DS Cristian Giacometti. Il settore giovanile ancora una volta viene affidato alla guida tecnica di Gian Antonio Tessarollo, qui si affianca come allenatore della Juniors nazionale Antonio Buono. Insomma, una grande rosa di nomi per la società e tanta l'emozione della neopresidente Bertoncello, figlia del compianto Gian Antonio per anni, leader dei fedelissimi, che punta sulla continuità e sulla fusione tra prima squadra e settore giovanile. La nostra è una società sportiva, sì, ma non solo, noi promuoviamo lo sport anche attraverso il valore del sociale, della promozione dei giovani, quindi da questo punto di vista lavorerò in continuità, sì. Lo sport è per me una palestra di vita prima di tutto, quindi anche sapere eventualmente gestire le situazioni un po' più complicate diventa veramente il valore aggiunto di una società sportiva. Per lei vestire giallo rosso non è una novità? Ma no, come ho già detto, è un'emozione, è un'emozione, perché ho fatto due anni belli, importanti qui a Bassano da calciatore, e ritornare in un'altra veste, una veste importante, con responsabilità, però è un sogno che si è avverato. I principi che muovono il calcio Bassano devono e sono quelli della sostenibilità, della correttezza e chiaramente del valorizzare da quest'anno, dopo che abbiamo fatto questa fusione col settore giovanile, valorizzare appunto i giovani del nostro settore giovanile.